Siamo da Elisa Carovilla, omonima e fondatrice del suo brand e creatrice di queste bellissime ceramiche. Ce le vuoi raccontare? Si, si tratta di un progetto fondato appunto sul recupero di oggetti in disuso e non più utilizzati, per esempio come porcellane oppure giocattoli, assemblati tra loro per ridare ad essi un animo ludico e artistico. Si passa da qualunque componente di arredo, tra piatti da appendere oppure da cornici oppure lampade da parete o da terra. Quindi anche piccoli complimenti. E se qualcuno volesse fare una cosa personalizzata può venire da te e farla, crearla insieme a te? Assolutamente, se vengono dati degli oggetti che magari sono di ricordi oppure oggetti preziosi ma personali, possono essere stati fatti e creati, trasformati per creare appunto degli oggetti che sono unici e non più riproducibili. Perfetto, un riuso perfetto delle cose che amiamo. Grazie. Grazie. Grazie.